Carissimi tifosi di Perugia, buonasera. Ieri abbiamo sentito dal Tg3 quel servizio dove parlava appunto di corri razzisti da parte del pubblico di Perugia, del presidente che interveniva, è chiaramente stata un'esagerazione perché del resto i giornalisti devono fare il loro mestiere, del resto un mondo senza giornalisti non sarebbe un mondo buono, sarebbe un mondo molto peggiore di questo, i giornalisti talvolta hanno un'opinione un po' troppo colorita e viene fuori di certe situazioni. È chiaro che il pubblico di Perugia è il migliore d'Italia in termini pallavoristici. Tutti quanti sanno che il pubblico di Perugia, io lo chiamo il nobilissimo pubblico di Perugia, è un pubblico estremamente corretto. Quello che l'altro ieri ho voluto fare io è quello come qualunque buon padre di famiglia vuole fare quando ci possono essere delle situazioni increciose dove ci sono dei cori e dopo magari ci sono delle persone che vanno a battere eccetera eccetera e possono creare dei fraintendimenti. Quindi ho voluto avvertire un mio staff di non fare certe situazioni, di non fare certi cori che potrebbero avere avuto suscettibilità da parte di quelle che sono l'altra squadra. Perché? Perché Perugia è stata e dovrà essere la società più corretta in termini pubblico pallavoristico d'Italia. Quindi ecco questo mi premo a dire. A testimoniare che è stata una bellissima partita, c'è stato anche i complimenti appunto degli organi della Lega, dell'amministratore della Lega che hanno fatto i complimenti al signor Sensi che è il manager del pubblico di Perugia per quello che è stato lo spettacolo. Quindi dobbiamo dire di essere soddisfatti, la partita l'abbiamo persa. Purtroppo è stata una partita come si è sfortunata perché un giocatore purtroppo in particolare ha fatto delle giocate meravigliose e quindi è andata così. Non mi sento sconfitto però perché quello che è successo è stato un grande spettacolo, siamo andati a cena tutti quanti con il sorriso sulla bocca. Quindi che vi devo dire? Adesso speriamo di conquistare il quarto posto perché è questo che ci si può aspettare come minimo da questa stagione, di andare avanti così a fare cosa? Attifare sempre sempre Forza Perugia!